Amici di Auto Occasioni, è un vero piacere ritrovare la vostra compagnia. Oggi in via del tutto eccezionale, sui nostri teleschermi, ritornano le minori proposte commerciali sulle quattro ruote, offerte da Auto Pitagora, l'indirizzo Corso Orbassano 277 a Torino, in compagnia di Mario Greco, che saluto con piacere. Ciao, mi hai ritrovato. Sì, ciao a tutti. Volevo ricordare che noi acquistiamo il vostro usato per contanti, con la massima valutazione, anche se non acquistate nulla. Quindi se avete una seconda macchina, venite qua, noi ve la valutiamo, massima valutazione, andiamo a Laci, firmiamo, è la macchina nostra, e voi andate via col vostro assegno. Insomma, Auto Pitagora è specializzato da sempre nella compravendita di autovetture nuove, usate a chilometri zero, supervaluta il vostro usato e si danno anche i numeri, sapete perché? Perché qui da Auto Pitagora ben fino a 36 mesi di garanzia sui vostri acquisti, 84 mesi sui finanziamenti, reperibilità sempre 24 ore, così come in 24 ore consegna del vostro usato. Insomma, un bel terno all'otto si è acquistati da Auto Pitagora, ma ora diamo spazio alle protagoniste e le proposte di Auto Pitagora. State con noi. E prima in scaletta quest'oggi, la super economica Smart Passion, con tetto panoramico, pochissimi chilometri percorsi, vero affare di Auto Pitagora. Ed è ottimo l'affare anche in casa Golf, con la Volkswagen Golf Plus, con interni in pelle, navigatore, uno degli allestimenti più belli, venite a scoprire il prezzo. Grande risparmio dal prezzo di listino per le chilometri zero e le aziendali, come la New Panda, che state vedendo nelle immagini, è una 1.2. Ed è un cambio automatico, la BMW X3 adattissima alla stagione, è un 2.000 diesel con navigatore, venite a scoprirla. Foglie d'autunno anche sull'Audi A4 Avant, l'anno 2009, con navigatore, cambio automatico. Ed è l'anno 2010, la Fiat Bravo Emotion, mentre vi ricordo che da Auto Pitagora tutti gli acquisti sono finanziabili e che permuta usato contro usato. Allestimento oro, la più bella per la nuova Lancia Y12. È la volta di un'autovettura aziendale, un ben sette posti, parliamo di Lancia Fedra con 136 cavalli, un vero affare, ottimo il prezzo. È la volta di un'elegante ma sportiva BMW 118 diesel, allestimento futura, ottimo il prezzo da venire a scoprire, ma anche la Delta 1.6 allestimento oro è una simpatica cittadina, la Peugeot 107, anche questa è una vettura super economica. Qui da Auto Pitagora anche una berlina d'eccezione, la Citroen C5 particolare, quasi introvabile nel mercato dell'usato e dell'anno 2010. Ottimo affare in casa Fiat con una Bravo 1.416 valvole, con impianto GPL, quindi grande risparmio, e dell'anno 2009. Ma anche grandi marchi, marchi prestigiosi come BMW, una 320 diesel station wagon, è una full optional con navigatore e cerchi da 17, assolutamente da vedere. E per gli amanti di casa Alfa, una 159 berlina, 2004 exclusive. È in casa Volkswagen una Passa Variant dell'anno 2010, unico proprietario tenuto in condizioni perfette. In casa Audi una 3 Ambition dell'anno 2004, è quindi super super economica, ma anche ampia disponibilità di Fiat 500 L già chilometri zero in vari colori e allestimenti. E c'è anche la Citycar del futuro, qui da Auto Pitagora, una Chatenet introvabile con soli 19.000 chilometri e potete viaggiare in città senza pagare la zona ZTL. Eccolo il fuoristrada d'eccellenza, parliamo di Mitsubishi Pajero, full optional con interni in pelle, tetto apribile, davvero formidabile per la stagione in corso. Ma anche un ottimo affare di casa Fiat con una grande punto benzina e diesel a partire da 4.900 euro. Una Opel Corsa 1.2 con cambi automatico e pochissimi chilometri percorsi, è un ottimo prezzo. Ma anche una Mercedes classe B, bella e elegante, una classe B200 con impianto GPL, quindi esenzione bollo. E anche un Alfa 159 Station Wagon dell'anno 2009 allestimento Distintive. Tantissime le vetture disponibili con impianto GPL qui da Auto Pitagora, questo significa risparmio, significa esenzione bollo, come Lancia Musa 1.4 allestimento oro dell'anno 2010. E tra le proposte di oggi non mancano le Fiat Stilo, come la 1.9 Multigetto, la 5 Porte, benzina a prezzi super economici. Ottima, addirittura introvabile, la proposta di casa Alfa con una 166-2004, unico proprietario con interni in pelle e navigatore, venite a scoprirla. E si prosegue con una Fiat Panda 1.2 e una Dynamic, quindi allestimento più bello, full optional. E' a dimostrazione che da Auto Pitagora non manca davvero nulla, anche vetture davvero amatorie, iscritte e asi, come la simpaticissima 500 che vedete ora nelle immagini. C'è anche l'Alfa GT Distinctive, 150 cavalli dell'anno 2008, unico proprietario e ottimo il prezzo. Spaziosa, comoda ed economica e questa è la Fiat Idea 1.495 i cavalli con un prezzo da venire assolutamente a scoprire da Auto Pitagora. Ed è splendido e completo il Nissan Juke 1.5 DCI, full optional, con telecamera posteriore, navigatore, cerchi in lega. Signori, venite a scoprirlo perché qui da Auto Pitagora ci sono i veri affari. E terminiamo la scaletta di oggi con una vera chicca. Auto Pitagora non è solo quattro ruote e lo vedete con un Gilera Nexus 500 in azione a 3.900 euro e dell'anno 2007 a soli 5.000 chilometri percorsi. E molto bene amici, sicuramente gli ingredienti per fare l'acquisto migliore alle migliori condizioni di mercato. Qui da Auto Pitagora ci sono davvero tutti e per soddisfare maggiormente le vostre richieste, le vostre aspettative, reperibilità anche la domenica, vero Mario? Sicuramente, anche la domenica, tutti i giorni dalle 8 alle 22, basta un preavviso telefonico e siamo a vostra disposizione tutti i giorni, anche la domenica. Ricordiamo gli orari? 8.22 tutti i giorni, anche la domenica. Perfetto Mario, ricordiamo che qui da Auto Pitagora, vendita, permuta, assistenza, supervalutazione del vostro usato, non vi resta che venire di persona. In Corso Orbassano 277 a Torino, dove troverete Mario che saluta e tutto lo staff. Sì, ciao a tutti, venite numerosissimi, una bella sorpresa anche per i bambini. Bene, ringrazio Mario Greco per l'ospitalità, ringrazio voi per averci seguito e come sempre lì nella regia. Grazie. Grazie a tutti.